L'auto non ti serve più. Vieni in riviera con lo shuttle Rimini Bologna Airport. Dieci corse giornaliere andata e ritorno per Cesenatico, Bellaria, Rimini, Riccione, Misano, Cattolica, Cadice. Viaggia con tutti i comfort, in completa sicurezza e libero dallo stress della guida. Per lavoro studio, per svago relax, a destinazione ti portiamo noi. Informati e prenota su www.shuttleriminibologna.it e viaggi senza pensieri. Novità, corse speciali andata e ritorno Aquafan.